Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati qui sul canale Times Gadget e bentornati in questa nuova video recensione Oggi sotto la nostra lente vi ho portato la nuova serie di cover della Caseology Un brand davvero molto interessante, vi ho portato anche la cover per gli smartwatch Samsung, per i Galaxy Watch 4 e 5 Chiaramente poi 5 Pro e 4 Classic, ma oggi vi ho portato tutta questa nuova serie di cover dedicata alla nuova serie dei Galaxy S22 Oggi ve li farò vedere con il mio S22 Ultra, ma come al solito ragazzi lo sapete qui sotto Vi lascio tutti i link in descrizione per acquistare queste cover anche per i Galaxy S22 Plus e gli S22 Partiamo subito però detto questo con la prima cover di questo lotto e andiamo a vedere la Skyfall tutta trasparente La confezione di vendita è molto semplice, è molto minimale e non sto qui a farvela vedere anche poi di tutte le altre cover Una Skyfall e una cover trasparente, anche questa davvero molto interessante Come molti di voi sapranno io non sono un grande amante delle cover tutte totalmente trasparenti Vuoi perché si graffiano, vuoi perché si ingialliscono, vuoi perché alcune volte sono un po' brutte esteticamente Invece devo dire che questa qui mi ha sorpreso positivamente Comunque all'interno andiamo a trovare il classico bigliettino, fogliettino con tutti i contatti per l'assistenza della Caseyology Anche per il supporto qui sotto con le email, oltre chiaramente che tutti i canali social E anche un ringraziamento da parte dell'azienda per aver acquistato un loro prodotto Ma andiamo subito a vedere però come è fatta questa cover Cover come vi dicevo interessante per un qualche aspetto, per un paio di aspetti Prima di tutto la back cover posteriore non è una di quelle molto morbide ma è abbastanza rigida Quindi è protettiva, non è per intenderci come la liquid crystal della Spigen Che è eccessivamente troppo morbida e quindi non va a proteggere Poi altrimenti è un po' che lo sto utilizzando e devo dire ancora non si sono ingiallite Ma non penso che si ingialliscono facilmente perché ho fatto caso che è davvero un buon tipo di TPU La cosa che mi piace è che non abbiamo il solito frame qui intorno come tutti quegli altri trasparenti Che sono molto semplici ma guardate qui come è fatto Ha questa parte in plastica opaca, molto bella perché è leggermente ruvida Quindi in contrasto con tutto il resto della cover ma anche leggermente opaca quindi ben differente Mi è piaciuto perché abbiamo solamente il brand Caseyology qui sotto piccolo in basso E poi abbiamo da questa parte sia a destra che a sinistra Una cosa che ho apprezzato tantissimo è che è la prima volta che le trovo su delle cover tutte totalmente trasparenti Abbiamo i bordi righettati, guardate abbiamo questa parte qui righettata Con una texture anche sempre in TPU ma con un TPU leggermente opaco Ma anche molto bello perché è abbastanza ruvido e non vi fa scivolare il telefono Sia a destra che a sinistra Questa qui è una cosa che ho apprezzato tantissimo Da questa parte poi abbiamo anche il loghetto Caseyology qui sotto Vi vado a mettere il telefono senza che nemmeno ve la pulisco Perché anzi voglio farvi vedere una cosa In questi giorni dato che l'ho utilizzata e non l'ho mai pulita Altro punto interessante di questa cover che ho apprezzato Guardate, non si vedono mai le impronte Oppure comunque dopo un po' si vedranno pure Non vi dico mai, forse ho zaddato troppo Però comunque in questi giorni che l'ho utilizzata Anche quando andiamo a sporcarla un pochino Andiamo a utilizzare Le impronte comunque rimangono sempre ben nascoste E questa qui è un altro punto che ho apprezzato Poi se avete come a me il telefono bianco Vi consiglio di inserirla da sotto la cover In modo tale che non andate a sforzare Questa parte qui che ha più forellini Poi se avete come a me il telefono bianco È chiaro che li andrete sempre Eternamente quasi a nascondere Perché con il telefono bianco opaco È chiaro che non si vedranno mai Forse vi potrebbe creare qualche problema Con i telefoni trasparenti Vi dico con i telefoni trasparenti Perché lo so che tutta la serie di S22 Sono tutti opachi Però comunque questa qui non è una serie rivolta solamente ai Galaxy S22 Ma ne abbiamo di questa Skyfall trasparente In tante diverse versioni Varianti per tanti diversi telefoni Quindi questo qui penso che possa essere Un giudizio un po' universale E complessivo su un po' tutte le Skyfall Dell'ultime generazioni E anche chiaramente per gli ultimi telefoni Da questa parte comunque abbiamo Oltre che il bordo righettato Anche i pulsanti di accessione e spegnimento E il bilancio del volume Rialzati Molto molto belli Mi è piaciuto tantissimo il click Perché è molto veloce Non è duro Non è troppo morbido Quindi secondo me è il giusto Abbiamo i bordi rialzati Sia nella parte superiore Che in quella inferiore Sono abbastanza alti Adesso forse non li vedete così tanto alti Perché ho ancora installato un vetro Uno screen protector Che sto provando in questi giorni E anche di questo vi arriverà Sicuramente la recensione a breve Perché mi sta piacendo anche molto Questo tipo di screen protector Il quale è poi È compatibile con tutte le cover Di questa Caseology E poi sulla parte posteriore Mi è piaciuto Come dicevo all'inizio Anche questo Diciamo Cornice perimetrale E anche come è stata tagliata I fori I vari fori Per le fotocamere Devo dire Fatti molto molto bene Poi abbiamo un gradino Qui vedete Che va a proteggere questo bordo Anche leggermente puntinato Sembrano dei piccoli Delle piccolissime viti Ci sono Che la rendono anche un pochino Ragged Ecco perché mi è piaciuto Perché è differente dagli altri E comunque Questo tipo di bordo Questo tipo di cornice Va a proteggere anche le lenti Guardate qui Che tipo di bordo E anche quanto è alto Altra cosa che ho apprezzato Davvero tanto E poi come dicevo all'inizio Non solo per i bordi Ma anche per avere Questa classica Diciamo back cover Trasparente Che è chiaramente Un po' rigida Fa sempre l'effetto ventosa Si tiene davvero tanto bene In mano Vuoi per il retro Perché fa l'effetto ventosa E non scivola Puoi per i bordi Che comunque Vi aiutano ulteriormente A tenere il telefono in mano Devo dire Che è una gran bella cover Nella parte inferiore Abbiamo i classici fori Non ve li ho fatti vedere subito Ma comunque sono Fatti davvero benissimo Mi piace perché sono Abbastanza ampi E comunque grandi Da poter far entrare Qualsiasi tipo di penna USB Anche qualsiasi tipo di cavo Anche quelli un po' più cicciottelli E poi abbiamo da questa parte Anche il foro Per la S Pen Che devo dire È fatto davvero molto bene Poi la cover Non è molto spessa Quindi ecco Da questa parte Forse non è una cover Di quelle che protegge Da urti e cadute Da grandissime altezze Però comunque devo dire È fatta davvero molto bene Poi abbiamo comunque Un prezzo abbastanza contenuto E questo mi riferisco Un po' a tutti i modelli Che vi faccio vedere oggi Della Kaesology Per questi S22 Perché tutte le cover Alla fine si aggirano Tutte su un prezzo Tra i 12 E al massimo I 18 euro I 20 euro Ma nemmeno ci arriviamo La maggior parte delle cover Comunque siamo sempre Su una fascia Tra gli 11 10 11 euro Fino a un massimo Di 16 15 euro Quindi sempre molto contenute Comunque anche di questa Vi lascio i link Tutti i link qui sotto In descrizione Direttamente ad Amazon Italia Come seconda cover dell'otto Parliamo sempre Della serie della Skyfall Ma questa volta Vi faccio vedere Una serie Un'alternativa Non del tutto trasparente Come cover Ma un modello Una variante Leggermente differente Chiaramente all'interno Troviamo sempre il fogliettino Con i contatti e i ringraziamenti Ma questa volta Come state vedendo Non è del tutto trasparente Ma bensì Abbiamo non solo Il bumper qui dietro Per la fotocamera Fumé Ma anche tutti i bordi Color Fumé È un grigio quasi nero Va un grigio scuro Davvero molto bello Interessante Si sposa bene anche Con le varie colorazioni Degli S22 E mi piace questa volta Questa variante Perché? Perché comunque Avendo questo bordo in TPU In questo colorazione Così più scuro Fumé È chiaro che con il tempo Poi non si va a ingiallire O comunque Anche se si dovesse Ingiallire È chiaro che non si vede Come su quella Tutta trasparente Quindi questo qui È una furbizia Tra virgolette È una variante Che ho apprezzato Anche molto Dottotutto poi Si sposa bene Anche con questa Colorazione bianca Come state vedendo Mi piace anche Questo contrasto Che c'è tra La back cover bianca E tutto questo bordo In nero Grigio scuro Fumé Mi piace anche Che si vede Anche un pochino di più Questo design Anche nuovo Di queste serie Delle Casology Qui dietro Per questo taglio Della fotocamera Mi piace il fatto Che sono state comunque Tagliate qui A filo Le lenti Seppur qui c'è lo spazio Però ho apprezzato Il design Anche la linea Anche il fattore Questo qui Tutta questa parte È stata coperta E non è stato lasciato Come su altri modelli Un foro unico Grande Dove si va Delle volte Spesso anche Accumulare la polvere E c'è anche il rischio Comunque Di graffiare Il telefono Se nel caso Entra qualche sassolino Un po' di Anche di polvere O in qualsiasi Altra occasione Comunque Più abbiamo Il telefono Protetto e riparato E meglio è Secondo me I pulsanti Sono i medesimi Quindi spingono benissimo Abbiamo gli stessi Bordi superiori E inferiore Per andare a proteggere Il display Che secondo me È un'ottima cosa E chiaramente Rimangono sempre I bordi Sia a destra Che a sinistra Righettati Molto molto bella Anche questa texture Con il classico Loghetto Qui da un lato Caseology E ritroviamo anche Il loghetto Qui sotto In basso Devo dire Una variante Della Skyfall Interessante Che mi piace Vi consiglio di prenderla Non solo se avete Il terminale Come a me Bianco Ma anche se avete Un S22 nero Secondo me Si sposa Alla grande E vi risolvete Come ho detto All'inizio Anche il fattore Il problema Di queste copre Trasparenti Che si vanno A ingiallire Con il tempo Specialmente Sui bordi Perimetrali E dove si vede Per la maggior parte Anche sulla parte Anteriore Che è quella Che poi mi piace di meno Quando si vanno a ingiallire Perché è quella Dove Diciamo È più a vista L'ingiallimento Poi della copra Comunque Una variante Davvero molto interessante Chiaramente Questa qui La troviamo Allo stesso prezzo Di quell'altra Questa sempre Intorno a una dozzina Di euro Anche di questa Vi lascio tutti i link Qui sotto In descrizione Anche se non so Se ci sono altre Varianti di colorazioni Quindi se nel caso Ci sono Perché adesso Non mi ricordo E non l'ho visto Su Amazon.it Comunque vi lascio Anche eventualmente Tutti gli altri Tipi di colorazioni Terza copra Invece dell'otto Qui andiamo A una nuova serie Della caseology Una nuova Devo dire anche Una storica serie Della caseology Partiamo della Parallax La Parallax Come ho detto poco fa È una serie storica Di questa azienda Che l'ho avuta Davvero tanti anni fa Questa cover Per un telefono Che nemmeno Mi ricordo qual era Era uno Mi sembra Dei primi Samsung Tanto per farvi capire Per dirvi Per chi di voi Non conoscesse La caseology Da quanti anni È che esiste Esiste davvero Da tanti anni E io da quando Mi ricordo questo brand Mi ricordo Questa serie di cover Che se non vado errato L'ha sempre fatta E mi è sempre piaciuta Vuoi per il design Vuoi per i materiali Perché questa qui Devo dire Come pro Ha di suo Il materiale Ha un TPU Ragazzi Che è davvero Bellissimo Al tatto È davvero piacevolissimo Sottutto poi Quest'anno Non è tutto Dello stesso TPU Con la stessa lavorazione Ma hanno fatto Questo gioco A contrasto Fra questo TPU Centrale Leggermente Soft touch Bellissimo Veramente al tatto Piacevolissimo Poi con questa texture Che è leggermente Allievo Quindi si sente Quando ci passate Sopra il dito O la mano E poi a contrasto Abbiamo queste due fasce Superiori e inferiori Dove abbiamo Lo stesso tipo di TPU Ma con una lavorazione Differente Infatti qui abbiamo Un TPU Totalmente ruvido Rugoso Poroso Davvero molto bello Che aiuta anche A tenere il telefono In mano meglio E quindi non ve lo fa scivolare E poi tra i due tipi Di TPU Andiamo a staccare Si va a staccare Si va a dividere Con questa fascia Che è una fascia Che non ho capito Ancora se è in plastica O in TPU Dove abbiamo il brand Caseology Anche questa Davvero molto bella E poi abbiamo Tutto questo bordo Anche qui per la fotocamera Tagliato come su quelle Sulle skyfall Quelle trasparenti Ma con un gioco Tra TPU Interno lucido Ed esterno Invece opaco Molto molto bello Cosa che ho apprezzato Anche tantissimo Sono i bordi Abbiamo anche qui Queste due fasce Righettate Ruvide Davvero molto belle Da questa parte Abbiamo anche il brand Caseology E questo devo dire Anche su questo modello Vi aiuta tantissimo La presa e l'ergonomia Abbiamo poi Questi segni qui dentro Questi sono un po' I medesimi Che troviamo anche La rete Tra virgolette Tra spighe Che abbiamo all'interno Questi qui servono Proprio per andare A assorbire meglio Gli urti e le cadute Qui dentro Abbiamo tutto Il brand Caseology Caseology in Irwin In California Parallax Series For Samsung Comunque è davvero Molto bella Vi vado subito A mettere il telefono Questa qui è una serie Di cover Che vi ho fatto anche vedere In maniera abbastanza veloce Sul mio canale di Instagram Mi raccomando ragazzi Apro e chiudo questa parentesi Se non mi seguite su Instagram Mi raccomando Vi ricordo sempre Seguitemi anche su Instagram Come canale social Vi lascio il link qui sotto Dove vi posto in anteprima Tutta la serie di storie Di reel Di video Di foto Di tutti i prodotti Che mi arrivano In anteprima Prima poi chiaramente Che vi riporto qui Sul canale YouTube Perché qui vi riporto Sempre dopo Una settimana Due settimane Perché li devo chiaramente Testare Comunque guardate qui Come sta bene È davvero Una bellissima cover Che avete il telefono bianco Ce l'avete verde Ce l'avete rosso Ce l'avete nero Secondo me Sta sempre molto bene Poi è presente In diverse colorazioni Infatti adesso vi faccio vedere Anche l'altra colorazione Più chiara E poi ragazzi Come ho detto prima Si tiene davvero Benissimo in mano È una delle cover Più piacevoli In assoluto Che ho mai provato Abbiamo chiaramente I bordi rilassati In la parte superiore E inferiore Cosa che mi piace Sempre tanto Per andare a proteggere il display I pulsanti sono leggermente differenti Dalla Skyfall Ma sono bellissimi Perché qui Dove non c'è Questa riga Dove c'è il materiale più ruvido Abbiamo tutto Un TPU invece Leggermente soft touch Anche qui Davvero bellissimo Sono al tatto E piacevolissimo Anche da utilizzare E i pulsanti Poi si schiacciano benissimo Hanno una corsa rapida Un bel click Comunque sono davvero piacevoli I pulsanti Anzi i fori Più che i pulsanti Nella parte inferiore Sono i mediesimi Della Skyfall Quindi fatti davvero molto bene Molto ampi Per la porta USB-C E anche molto ampio Per andare a prendere La S-Pen Qui sotto Una serie davvero Molto interessante Questa serie Ha un costo di 14 euro 99 Se non vado errato O 16 euro 99 Comunque anche qui Il prezzo è molto contenuto E di questa serie Della Parallax Ce l'abbiamo anche Ve la faccio vedere al volo Anche in quest'altra Diversa colorazione La colorazione è Midnight Green Mi sembra che ce l'abbiamo Anzi mi sembra Sono più che sicuro Che c'è anche In colorazione Grigia chiara Oltre che nera E ci dovrebbe essere Anche nella versione blu Se non vado errato Perché sono quelle serie storiche Poi la caseologi Ha portato avanti Anche una serie di colori Li ha portati sempre avanti Per diversi anni Anche questo verde È davvero bellissimo Non solo per il gioco Di TPU Che anche qui abbiamo Li stessi diamantico TPU Ruvido Ruvido E leggermente Soft touch Qui sulla parte centrale Ma mi è piaciuta tanto Anche questa riga qua Che è leggermente È molto differente Perché su quella nera E nera su nera Invece qui abbiamo Un verde Decisamente molto differente E molto bello Che va a staccare E a chiarare Anche un po' Qualche gioco di colore Qui sul reddito Della cover I bordi sono i medesimi Sempre verde su verde Da questa parte Con tutta questa parte Richettata Sia a destra Che a sinistra E chiaramente Con i bordi rialzati Devo dire Molto molto bella Anche come colorazione Bella perché È un verde Che non si vede Sempre Non è un verde sparato Non è un verde troppo scuro Secondo me è un bel punto di verde Anche di queste Vi lascio tutti i link Con chiaramente Qui sotto In descrizione Come quinta cover Invece dell'otto Qui passiamo Dopo la parallax A un'altra serie Della caseology Un'altra serie storica Che si chiama La nano pop Una nano pop Una serie davvero Molto interessante Anche questa Ma soprattutto Molto bella Anche qui Per i tipi di TPU E per come si tiene in mano Devo dire Anche qui La caseology Ha studiato Ha fatto un tipo di TPU Davvero bellissimo al tatto È leggermente Più scivolosa Della parallax E anche Della skyfall Questo quello devo dire Questa serie nano pop Un po' fa l'effetto Non vi dico saponetta Ma va a scivolare Piano 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 Quindi questo qui Potrebbe essere un neo Però comunque La ritengo davvero Molto molto bella Per come è fatta Molto bella Perché Perché è una serie Di quelle cover Pulite Minimali Eleganti Non abbiamo grandi brand Abbiamo solamente Il piccolo brand Sempre qui sotto Della caseology Mi sembra anche Da questa parte Poi colore su colore Quindi non è che si vede tanto E poi è tutta totalmente pulita Di un TPU Come vi dicevo prima Davvero bellissimo al tatto Piacevolissimo Soft touch Con a contrasto Che cambia solamente Qui il bordo Il bumper La cornice Per le fotocamere Che si Secondo me È sempre molto interessante Come contrasto di colore Come abbinamento Ma proprio il resto Non abbiamo nulla Guardate quant'è pulita Questa cover Sia sul lato terzo Che sul lato sinistro Purtroppo non abbiamo Sì le bande righettate Però rimane una cover Estremamente elegante Ve la vado a mettere Così vi faccio vedere Anche con il telefono Come sta Chiaramente anche su questo modello Seppur elegante Abbiamo sempre i bordi razzati Nella parte superiore E inferiore Ma guardate qui Quanto è elegante Questa è una di quelle cover Che mi piace Per il suo Il suo design minimale Lineare Non abbiamo brand Grandi Non abbiamo tanti grigori Non abbiamo tanti disegni Ma non abbiamo nemmeno Quei tipi di di più Come per esempio Sulla parallax Che per quanto può essere bella Però comunque forma una serie di disegni Una serie di geometrie Un design differente Che comunque Ha sempre una serie di Diciamo di grigori Tutto sulla parte posteriore Qui invece è totalmente pulita E questa qui È una cosa che non trovo Su tante cover Anzi la trovo Veramente su pochissimi Modelli di cover Anche i pulsanti Sono davvero ben fatti Sempre tutti Dallo stesso materiale Colore su colore Belli perché anche qui Si spingono benissimo Ha un click Veramente molto reattivo I fori Nella parte inferiore Sono ottimi anche qui Molto grandi Ampi Spaziosi Anche per la porta usb Che dire ragazzi Anche questa nanopop Devo dire Mi piace davvero tanto Si trattiene Si trattengono un po' le impronte Un po' di grasso Ci si forma Anche per quanto riguarda i graffi Ho fatto caso Che sono un pochino Più sensibili Rispetto alla parallax O rispetto alla skyfall Però devo dire È una gran bella cover Anche questa Siamo su un prezzo Tra i 14 e i 16 euro Anche qui Molto contenuto Di questo modello però Ve le faccio vedere al volo Ne ho anche altre due colorazioni Che sono anche queste Davvero molto molto belle Ce l'abbiamo sia in questo verde Che anche questo Ve l'ho fatto vedere In un qualche reel In un short Recente anche su youtube E chiaramente anche in un reel Su instagram Guardate qui che bello questo verde Mi sarebbe piaciuto tantissimo Non nascondo una cover Tutta di questo verde qui In come è nella parte interna E come è nella parte esterna Ah cosa che mi scordavo Questa qui per esempio È un dual layer Come anche in questo modello Cosa che sulle parallax Per esempio non abbiamo Dual layer significa Che abbiamo Tutta la parte questa qui Che è in plastica Infatti guardate Non si può andare a scorporare A staccare Però questa qui è in plastica E poi abbiamo un dual layer Che chiaramente Prende tutta la parte esterna E tutta la parte Del diciamo del bordo Che è in tpu Quindi abbiamo due diversi Tipi di materiali Comunque non vi nascondo Che mi sarebbe piaciuto Tantissimo Una cover di questo verde Che è un verde bellissimo Che ce l'abbiamo solamente Sulla parte interna E chiaramente Qui dietro Sulle fotocamere Dove la state vedendo Dove l'avete vista Anche prima Comunque anche questa Una bellissima colorazione Mi piace tanto Perché è un verde Leggermente differente Da questo Della parallax Questo qui è un verde Molto più scuro Mentre questo qui È più un verde oliva Con questo verde mela Verde acido Davvero bellissimo Poi col bianco Si sposa benissimo Abbiamo anche qui I bordi riazzati Nella parte anteriore E poi qui sotto I fori aperti Il brand caseology E anche il brand Qui sotto Caseology Anche in questo caso Essendo una nanopop Mi piace Perché abbiamo Questo contrasto Tra un verde scuro E verde chiaro Ma poi non abbiamo più nulla Molto pulito Molto bello Molto minimale Come design Soprattutto anche poi È una cover Che sì Ok Ogni tanto può scivolare Però comunque è leggera È abbastanza resistente E non è pesante Quindi se volete Cercare una cover Di questo genere Con il TPU Ma non volete Un qualcosa di molto spesso Molto rugged Molto sportivo Questa qui secondo me È la cover Che fa per voi E poi abbiamo anche Una terza colorazione Adesso la faccio vedere subito Che è questa qui Questa volta È la colorazione Quella classica Della caseology Abbiamo anche Le varie cover Per smartwatch Se non vado Errato Ed è la classica Colorazione Blu e gialla All'interno Sempre il fogliettino Anche questa Essendo una nanopop Abbiamo Questa parte Della back cover Per la fotocamera In plastica Leggermente ruvida Non è liscia Cosa che mi sono scordato Di dirvelo prima Sugli altri due modelli E internamente Chiaramente Plastica gialla E tutto il TPU Blu Ma guardate che bello Anche questo colore Perché comunque È un blu più scuro È tra virgolette Un blu navi Come molti ormai Lo chiamano Questo punto di blu Ecco vedete Qui forse si vede Un pochino Vedete come È più soggetto A questa cover A graffi E a segni Un pochino Si va a graffiare Con il tempo Però comunque Cioè comunque Se ci state attenti Non succede nulla O anche se La portate con voi L'uso quotidiano O giornaliero Questi graffi Le dovete provo a fare Con Non vi dico nemmeno Con l'unghia Ma proprio strusciandola Su un muretto Strusciandola su un tavolo A me questa qui È capitato Perché in questi giorni Ho dato una strusciata Col telefono Mentre avevo proprio Questa cover Su un muretto E quindi Ecco perché Ci sono questi graffi Però comunque Non è una di quelle copie Che si rica subito Non fraintendiamoci Però è chiaro Che Trattiene un pochino più Le impronte Graffi Rispetto alla parallax O alla skyfall Comunque guardate quanto è bello Anche questo blu E questo giallo Con questo contrasto Che mi piace tantissimo Spero Nella caseology Che produca Anche il prossimo anno In futuro Qualche cover Con quelli più sgargianti Per esempio A me mi sarebbe tanto piaciuto Una colorazione Contraria a questa In pratica Tutta la cover gialla Ma con Il Con la cornice Con il bumper Della fotocamera In blu Ecco Quelli lì sarebbero state Davvero delle belle cover Un po' Diciamo Diverse dal solito Anche per quanto riguarda il verde Sarebbe stato bello L'opposto Come colorazione Verde chiaro Tutta verde chiaro La cover E un verde scuro qui Perché? Perché comunque Sto facendo caso Che ci sono sempre Meno aziende Che producono cover colorati Per questi smartphone Specialmente per questi Samsung La maggior parte dell'azienda Produce tutte cover scure In colorazione nera Blu Grigia Come state anche vedendo qui Ogni tanto ci vuole Secondo me Un pochino di colore Comunque questa è tutta la nuova serie Delle cover Della caseology Di quest'anno Per questi Galaxy S22 Ultra S22 Plus Ed S22 Fatemi sapere anche voi Cosa ne pensate Se vi sono piaciute Se non vi sono piaciute Se avete già avuto modo Di testare altre cover Della caseology O mi volete consigliare Altri modelli Io sono aperto Sono sempre qui A vostra disposizione E aperto A qualsiasi Nuova indicazione Informazione Consiglio Lo sapete ragazzi Sono sempre disponibile Detto questo Se vi è piaciuto il video Ragazzi mi raccomando Lasciate un bel like E mi raccomando Cosa è più importante Iscrivetevi qui Su canale di Youtube Noi ci vediamo Alla prossima video recensione Tatame's Gadget Per Giorgio Buona giornata a tutti E grazie ancora ragazzi